Un noto imprenditore è rimasto ferito gravemente dopo essere caduto da un'impalcatura situata in un cantiere in via Pio XII nel rione Paterno ad Eboli. L'uomo sarebbe caduto dall'altezza di 3 metri. Immediato l'arrivo sul posto degli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Per il malcapitato, che non ha mai perso conoscenza, una serie di fratture agli arti. Se la caverà con 30 giorni di prognosi.